il punto è questo Alessio perché è arrivata anche a me la segnalazione quest'ultima e sono mesi che arrivano le segnalazioni di te la tua ex quindi la domanda che mi pongo è perché tutte queste persone devono mandare la segnalazione di te la tua ex cioè potrebbero mandarla su lui, su di te un'altra, te un'altra ragazza perché si continua a battere il punto e continua a scrivere te la tua ex è normale che la vigna si blocca è perché dal primo giorno è stato messo al centro questa cosa la prima volta che è uscita questa segnalazione era un compleanno di 30 anni al quale io non è che posso evitare di andare a un compleanno di un mio caro amico di 30 anni ma chi fotografa? ma chi fotografa? non c'è mai uscita una foto io ho una foto di chi mi fotografa? scusami, no, no, voglio sapere questa foto adesso no, è una foto dove c'è lei e dietro c'è l'ombra di lui, non si vede che tu ma scrivono c'è l'ombra mia Alessio come questo non l'hai detto fermi, fermi, allora cacciamo questa foto pensavo che fosse la stessa ma la mia ombra l'hai capito da che cosa? no, 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 si vede che sei tu dice Alessio è quello che sta dietro in ombra perché ci siamo noi là una segnalazione